Una Chiesa senza martiri dà sfiducia, una Chiesa che non rischia dà sfiducia, una Chiesa che ha paura di annunciare Gesù Cristo e cacciare via i demoni, gli idoli, l'altro Signore che è il denaro, non è la Chiesa di Gesù. È la riflessione pronunciata da Papa Francesco durante l'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta. Partendo dal capitolo 16 del Libro degli Atti degli Apostoli, il Pontefice ha messo in guardia da una Chiesa in cui tutto procede senza problemi perché quella è una Chiesa tiepida, organizzata, dove si fanno gli affari. L'annuncio di Gesù invece richiede audacia e una conversione autentica e gioiosa. E questo è il cammino della nostra conversione quotidiana, passare da uno stato di vita mondano, tranquillo, senza rischi, cattolico, sì, sì, ma così è tiepido, a uno stato di vita, dal vero annuncio di Gesù Cristo, alla gioia dell'annuncio di Cristo. Passare di una religiosità che guarda troppo i guadagni, alla fede e alla proclamazione, Gesù è il Signore.